A Giulia Nova l'assessore al turismo Marco Di Carlo ha annunciato che l'amministrazione in attesa dell'approvazione della sovrintendenza per dare avvio al progetto di ristrutturazione del Cursal, oramai pronto da diversi mesi. Una volta ottenuto il via libera potranno partire le procedure per assegnare i lavori di rinnovamento di questo storico edificio, destinato a diventare un moderno cineteatro con una capienza di circa 400 posti. Questo ampliamento è reso possibile da un accordo con un privato legato alla riqualificazione dell'ex Saddam, da cui sono stati ricavati 575 mila euro per il progetto. Sì, ormai l'iter è partito da un anno attraverso l'attuazione della convenzione con l'ex aria Saddam. Il Palazzo Cursal è un palazzo storico importante della nostra città, lo renderemo un vero e proprio cineteatro, valorizzandolo e facendo sì che Giulia Nova possa per la prima volta avere un proprio teatro da gestire e soprattutto da poter ospitare le principali compagnie di prosa teatrale nazionali e internazionali. Attualmente il Cursal, con una capienza di 200 posti, è utilizzato per convegni e piccoli eventi. Il progetto di riqualificazione prevede una sala con platea e galleria, una struttura in grado di ospitare importanti produzioni teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche. Saranno inoltre realizzati un palco più ampio, camerini moderni e un dehors esterno, ampliabili in futuro insieme a un sistema di riscaldamento e aria condizionata. Quanto tempo ci vuole secondo lei? Siamo in attesa giorni del parere della sovrintendenza per i lavori interni, il progetto esecutivo è già stato presentato, successivamente dovrà essere fatto un bando per la giudicazione dei lavori e poi successivamente inizieremo i lavori. Noi prevederemo di iniziarli tra febbraio e marzo del 2025, dureranno credo circa sei mesi. Grazie. 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 Grazie.